Il libro di Rosemary's Baby, che ho finito poco fa, prima di iniziare la live, mi sono tenuto proprio le ultime pagine, scritto da Ira Lee Living, un romanzo che arrivò sul tavolo di Roman Polanski, e Roman Polanski se lo lesse tutto e alla fine della lettura accettò di fare il film senza batter ciglio, cioè nel senso che proprio rimase stregato da questa storia, e la storia è molto interessante, moderna come storia, una storia di potere, una storia di potere, e lo capisco, lo capisco quando arrivo alle ultime pagine, che è una storia di potere, il potere, ma anche di potere femminile, il potere dell'individuo, il potere di scegliere. La grandissima differenza è che qua il bambino si vede, fa ridere detta così perché è un libro, il bambino si vede, il bambino si vede bene, e questo è uno spoiler se non avete letto il libro, era quello a cui volevo arrivare dopo aver visto un film così bello, una scena così bella, che mi ha messo tutto quel mistero lì, appunto, Mia Farro che interpreta Rosemary's, che ha visto lo schifido, l'espressione è schifido, come dice Cronenberg, io apprezzo il fatto che non abbia reso il volto dell'anticristo, un po' come la valigetta di Marcello Suolas, sì, nel film funziona benissimo, nel film funziona benissimo, nel libro è impossibile che questo accada, e vi spiego perché, forse nel film la voce di voricampo lo descrive comunque, dice qualcosa, nel libro, spoiler, quindi se non volete saperlo andatevelo a quel paese, come ho scritto nel titolo, ho scritto esattamente come è scritto nel libro, nella traduzione italiana, aveva gli occhi completamente giallo-oro, con due fessure nere verticali per pupille, completamente giallo-oro, e due fessure nere verticali per pupille, morto, cioè io sono morto, e il bambino, il bambino viene descritto come un bambino molto bello, con una pelle molto bella, quasi, una pelle proprio chiara, bella, no? proprio, con dei lineamenti molto carini, con questa folta chioma di capelli rosso-arancione, e ha gli occhi chiusi, e Rosemary spensa, è bello, cioè alla fine è bello, questo bambino sta bene, poi apre gli occhi, e Rosemary fa quella faccia lì, ha quella reazione lì che c'è anche nel film, perché vede gli occhi, e quando lei dice cosa avete fatto agli occhi di mio figlio, perché ha gli occhi così, gli dicono agli occhi di suo padre, ma Guy, il marito di Rosemary, non ha gli occhi così, infatti dicono suo padre non è Guy, suo padre è Satana, e poi gli dicono non ha solo gli occhi così, ha anche la coda, e un po' si vedono le corna, che stanno spuntando, e anche gli artigli sulle mani, per questo porta dei guantini carini neri, e la sua tutina nera, ed è tutto avvolto nel nero, e sta in una culla di vimini nero, è veramente una scena che me la sono immaginata, e ho detto wow, cioè è pazzesca, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto tanto, perché è un po' diverso dal film, funzionano entrambe le cose, qua funziona perché tu, tutto il libro, tutta la vicenda, tu la vivi attraverso i pensieri di Rosemary's Baby, di Rosemary scusate, di Rosemary, mi sono trovato davanti a una scena horror, che aspettavo, mi sono trovato di fronte a una scena bellissima, bellissima, e la cosa ancora più bella, che aspettavo è, capire cosa pensava Rosemary, e cosa pensa Rosemary, io ve lo spoiler il libro ragazzi, me ne frega un cazzo, cosa pensa, pensa una roba, all'inizio si ritrae, dice no, io adesso lo prendo, lo butto dalla finestra, e mi butto anch'io, perché non posso vivere così, dopo quello che è successo, poi però inizia piano piano a farsi largo, nella sua testa, il fatto che il bambino, per metà è suo, cioè è vero, per metà è figlio di un mostro, di qualcosa di, di una aberrazione ultraterrena, ma l'altra metà è figlio suo, e lei pensa di essere una brava persona, quindi pensa, questo bambino per metà potrebbe essere una brava persona, e io potrei essere quella madre che lo porta a guardare la sua parte più umana, più Rosemary, e quindi piano piano si insinua nella sua mente che deve fare da madre a questo bambino, che è un piccolo mostro tra l'altro, perché avrà insomma dei problemi a tagliargli le unghie, e chiaramente poi come nel film si capisce, si intuisce che Rosemary accetta di fare da madre a il figlio di Satana, una idea meravigliosa nel mondo dell'horror, nel cinema non si era mai vista una roba del genere, e quindi è veramente qualcosa di pazzesco, ecco un film che secondo me richiama vagamente Rosemary Baby, è Hereditary, che è un film dove appunto, secondo me lo cita tantissimo, ne trae tantissima della base per fare la storia di Hereditary, perché appunto c'è una setta che vuole mettere un demone dentro una persona, quindi in questo caso si è passati attraverso l'inseminazione di Rosemary, mentre invece nel film Hereditary c'è la volontà di, con un rituale, di portare una persona a diventare l'involucro che ospita un demone. Ci sono tantissimi concetti, ahimè, nel senso ahimè, perché adesso suona stonato parlare di patriarcato, perché sembra che, siccome è un periodo in cui per fortuna si parla di patriarcato, per fortuna, però è vero che anche queste cose escono un po' dalle orecchie dopo un po', e si rischia di, grazie all'ignoranza che c'è, di cercare trovare il patriarcato ovunque, nei modi più stupidi, poi dopo si finisce per ridicolizzare quello che invece è un'evoluzione, un movimento giusto, cioè quello appunto di scardinare certe cose culturali che riguardano appunto il patriarcato. È un film sul patriarcato però, e lo è, è un libro che è scritto negli anni 60, il film è del 68, ed è un periodo incredibile per parlare di patriarcato, però come lo fa? Lo fa in un modo totalmente, come si dice, astratto, metaforico. Perché? Perché Rosemary è una donna che non dispone della sua possibilità di scegliere. Per esempio, provate a fare un parallelo tra il diritto all'aborto, che è un diritto della donna e non dell'uomo, il diritto della donna è qualcosa che riguarda le donne, e poi pensate alla storia di Rosemary. Quanto poco Rosemary dispone del suo corpo, non può scegliere, viene stuprata. Una notte viene drogata, viene legata e viene stuprata appunto da un essere, da un essere ultraterreno, che è il diavolo, che è Satana, e gli altri nudi fanno il rituale, la guardano, la legano, la tengono ferma. Quindi è uno stupro, quindi siamo di fronte a un concetto di proprietà. Cioè, Rosemary è di Guy. Guy è il marito. Guy, per avere successo, come attore, vende il corpo di sua moglie. vende sua moglie, perché sua moglie non dispone del suo corpo, del suo stesso corpo. Più patriarcale di così non ce n'è. Non solo, lei non può disporne, ma ne dispone Guy. Ma Guy lo baratta, e quindi ne disporrà un'organizzazione, un'organizzazione che appunto è la setta. La setta rappresenta tutte le organizzazioni del mondo, quindi anche il governo, semplicemente le leggi. Rosemary però, alla fine, invece che aprire Holyfans per dimostrare la sua volontà di riprendersi quanto possibile, tutto questo è nascosto in una storia, non è un manifesto politico, ragazzi, è nascosto in una storia. Quindi è come se ci fosse l'esigenza di raccontare questo stato in cui si trovano, in cui si trovavano le donne, in cui si possono trovare ancora adesso. Lei a un certo punto dice, no, ok, mi hanno fregata, mi hanno stuprata, mi hanno ficcato dentro un figlio di un altro, non di mio marito, mio marito è un figlio di puttana, io adesso prendo e lo butto dalla finestra e mi butto anch'io. Questa è la prima volta che Rosemary si decide qualcosa. È la prima volta che è autonoma, può farlo, può farlo perché nessuno se lo aspetterebbe, lei può farlo, ha la libertà di farlo. Poi, di nuovo, decide ancora di non farlo, ma fa un ragionamento che è molto interessante, che è quello del dire, ok, questo bambino è metà figlio di Satana, però è anche metà figlio mio. Questo bambino è un piccolo Rosemary e io sono una brava persona, pensa lei, anche se poi non è appunto una cattolica, lei non è una cattolica frequentante e lo spiega nel libro, è cresciuta un po' lontana da queste cose e quindi decide che lei può prendere questo bambino, crescerlo, facendogli vedere, cioè voltandolo sempre dalla parte buona, umana che c'è in lui, quindi lei pensa di poter fare qualcosa per cambiare questo stato delle cose, quindi è veramente secondo me un atto di grande indipendenza e di modo proprio di agire contro un sistema, il sistema è quello dei governi, quello delle organizzazioni, in questo caso della setta e lei decide invece internamente alla setta di crescere questo bambino ma come vuole lei, e questo è una parte fighissima secondo me del libro e dei concetti politici che sono quasi involontari in questo racconto, sono semplicemente ciò che può venire fuori quando si sente che c'è una pressione patriarcale, c'è una pressione di questo tipo, cosa accadrebbe, cioè cos'è che accadrebbe a una donna a cui fanno questo, questo, non perché è Rosemary's, perché è quello che accadrebbe a qualsiasi altra donna che si chiami in qualsiasi altro modo, non ha il potere di fare un cazzo, in generale lei comunque ecco, è una cosa che si percepisce in tutto il libro, c'è questa indole mite di Rosemary ad accettare, sembra quasi speak no evil, c'è questa questa indole ad accettare e a non dubitare e ad accettare tutto, anche per una questione di estrema cortesia, quindi estrema cortesia con i vicini, lei accetta di portare un ciondolo puzzolente con dentro radici di tanis, accetta quello, accetta tantissime cose che non sono accettabili e quando iniziano a morire delle persone, questo, esattamente come accade poi in speak no evil dove il pericolo inizia a essere evidente, non basta a fermarli, non basta a bloccare questa eccessiva cortesia nei confronti degli altri, molto interessante questa parte qua e lei alla fine veramente è bello proprio vedere come in questi due gesti il primo decidere di uccidersi, uccidere il figlio, vedi come c'è proprio finalmente c'è Rosemary che decide che ha voglia di dire vaffanculo adesso decido io per me e poi alla fine anche quando decide per un'altra strategia e cambia vedi Rosemary e tu sei affezionato a lei perché per tutto il libro sentirai che è una persona estremamente buona ed estremamente gentile motivo per cui non si sa perché è stata scelta da Satana per infilargli dentro il proprio figlio bellissimo sono stracontento e in più visto che mi è arrivata l'edizione qualche tempo fa 4k di Rosemary's Baby me la rivedrò il prima possibile perché sono fresco dalla lettura del libro del libro Grazie a tutti